Venezia, 79 giorno 2, abbiamo fatto il solito giro per le vie del festival Cindy, come sempre, outfit pazzesco, super luminoso e super sbrillucicante Il caro Vita ha colpito anche Venezia, mancano delle lettere Ma tanto in pochi se ne accorgono perché sono tutti concentrati sul red carpet E qui ho visto questa simpaticissima influencer con tanto di scaletta per laurare meglio Con lei abbiamo addirittura fatto un duetto su TikTok, molto divertente Abbiamo messo su un bel programmino Poi è arrivato il momento scatti fotografici Ma soprattutto ho incontrato un amico con cui finalmente abbiamo inaugurato i brindisi dello Spritz Quest'anno costano di più ma almeno non saranno acquati E poi di nuovo red carpet perché sul red carpet c'era oggi Alejandro Inarritu Grandissimo regista che è qui a Lido con un nuovo film Attività di rito qui sul red carpet sono gli autografi, le foto per la stampa e soprattutto le interviste E il film di questo regista sono andato a vederlo in sala subito dopo nella pala biennale Sala in cui ho l'abbonamento per vedere i film Solo serali praticamente quest'anno E il film devo dire mi ha steso molto intenso E quando sono uscito per tornare a casa con mia sorpresa Ho trovato un sacco di ragazzi che hanno preso posto per il red carpet di domani Dormiranno qua la notte veramente degli eroi Ciao a domani con un nuovo video